Noi siamo un paese che ha votato per questa legge, è una legge dello Stato e quindi se una legge, anche giusta, non viene difesa da nessuno è come se non ci fosse. Nel centro dove c'è l'unico medico non obiettore, se il non obiettore quel giorno sta male, è un problema. In tantissimi posti si è verificato il fatto che l'unico non obiettore è andato in pensione e il servizio semplicemente è stato chiuso. La stragrande maggioranza dei miei colleghi era entrata per la 194. Poi dopo un po' ha messo l'obiezione, poi non so se tutti hanno visto la Madonna. Ma ognuno nella nostra vita cambia idea, magari sul percorso può essere colpito da un flumine che gli fa pensare di agire diversamente. E questo è violento perché tu vivi dall'inizio dell'esperienza alla fine una sensazione di invisibilità. La stragrande maggioranza dei miei colleghi